Sì che bello un'altra idea di sport e allora sì dobbiamo correre tutti insieme perché parlare oggi di legalità non basta più. Ci vuole più consapevolezza e responsabilità non dimenticando che non è solo una congiunzione ma è un verbo consapevolezza e responsabilità responsabilità e consapevolezza. È necessario conoscere per diventare tutti più responsabili e abbiamo la responsabilità anche di creare una sala inquietudine in quanti hanno scelto la strada sbagliata, di quanti sono disposti a cedere a compromessi. Penso alle varie forme di legalità anche presenti nel mondo dello sport purtroppo e penso anche ad esempio al doping. Penso a quanti hanno scelto delle forme di furbizia. Tutto questo inquina, inquina la vita sociale, inquina la dimensione bella della pratica sportiva, quella che dà senso, significato, quello che unisce l'etica all'estetica, il bene e il bello dello sport. E allora corriamo, corriamo insieme. Lo sport si è veramente per tutti. Parlare di sport ma anche portare il sport dove non c'è.